Giornali dunque che danno molto risalto all'articolo 18 in questo fine settimana caratterizzato dal forum di Cernobbio, organizzato da Confcommercio, al quale hanno preso parte Monti, Alcamusso, Alfano, Bersani, tutti seduti a un tavolo per discutere di che cosa non si è ben capito, i giornali parlano anche di molti pettegolezzi e dei commenti che Alcamusso avrebbe fatto sulla cravatta di Monti, però prima di adentrarmi in questo argomento vorrei dare risalto a ciò che mi ha colpito oggi, ossia la poca rilevanza che ha avuto la notizia della morte di 5 giovani in provincia di Vicenza per un incidente stradale, la notizia trova spazio per esempio sul Corriere a pagina 24, auto nel canale affogano 5 giovani come se fosse un dispaccio ad agenzia, proprio relegato in mezzo alle cronache, 5 ragazzi di 20 anni che muoiono in un incidente stradale, si trattava di un kosovaro, un bosniaco e 3 ragazze romene, ecco forse spiegata la ragione di questa pochissima evidenza, erano 5 stranieri, non erano 5 italiani, non erano nemmeno militari in Afghanistan, non era uno, erano 5, magari uno in Afghanistan avrebbe meritato le prime pagine, mentre invece 5 sarà che sono stranieri, 5 ragazzi morti in un incidente stradale che sconvolgono 5 famiglie e sicuramente anche le comunità dove questi ragazzi vivevano non trovano spazio sui giornali e questo la dice lunga un po' anche sul razzismo secondo me che viene da questo tipo di trattamento dei fatti, 5 ragazzi che hanno un solo dispaccio così in un angolo del giornale che se avessero magari avuto molto più spazio avrebbero potuto in qualche modo anche sensibilizzare il dramma e il tema anche della velocità e dei pericoli dell'insidio e della strada, argomento toccato in maniera anche molto metaforicamente da Eugenio Scalfari che per difendere il progetto della TAV aveva scritto in prima pagina su Repubblica non più tardi, due o tre settimane fa, quella generazione di giovani che odia la velocità rifacendosi ai presunti benefici del TAV. Veniamo dunque allora agli argomenti principali dei giornali della settimana, articolo 18, Monti sul lavoro, il testo non si tocca, è il succo che trae Repubblica per esempio, ma non soltanto, di questo incontro che c'è stato a Cernobbio proprio tra lui e gli altri segretari di partito, assente Casini che pare tra i papabili a candidarsi l'anno prossimo per il Quirinale, pensate un po' l'Udc di Casini che deve il suo 4% misero a livello nazionale, al grosso contributo che è venuto dalla Sicilia, Udc che vale più del 10%, l'Udc Cuffariana, Cuffaro in galera per concorso esterno in associazione mafiosa reato a cui teoricamente secondo Jacoviello l'assolutore dell'Utri non dovrebbe crederci più nessuno, bene Casini dato tra i papabili a candidarsi al Quirinale, non c'è in questo incontro, però i giornali commentano anche le battute della Camusso sui colori della cravatta di Monti, dunque questo finto clima cordiale dove però vengono toccati i temi della economia, della non ripresa dell'Italia sul fatto che comunque un aumento della tassazione, un calo anche dell'occupazione creano ovviamente una contrazione ulteriore dei consumi e dunque la recessione è piena perché la si può toccare in tutti gli strati sociali e in tutte le parti d'Italia in cui si va voi provate a osservare le facce delle persone nelle metropolitane e nelle stazioni che sono lì che aspettano il treno, sono tutti cupi, non c'è nessuno che sorrida e la sensazione è che non che noi fossimo un popolo molto allegro, però rispetto a tempo fa i visi cupi siano molto aumentati e questo è un brutto segno in quanto tutti hanno problemi con i pagamenti sui posti di lavoro e a far quadrare un po' i bilanci. C'è poi una ricca parte che riguarda l'estero e l'Afghanistan e dunque il discorso e dell'incontro viene poi trattato all'interno con Monti, la riforma è chiusa, niente trattative sul testo, fornero CGLF e ricordi, ossia non accettiamo più la concertazione coi sindacati, questo decide il governo, l'articolo 18 viene in qualche modo rimosso, aumenteranno le possibilità di poter licenziare e dunque non si tratta, dunque il ruolo del sindacato viene relegato a essere un'entità inutile, la Camusso ben rappresenta questa CGL accusata assieme agli altri sindacati per molti versi alla fine di fare un po' la parte di difensori degli interessi degli imprenditori e dunque sindacato al centro della polemica, sindacato che si rivela inutile in questa trattativa che non ci sarà e bisogna anche valutare poi gli effetti di queste decisioni perché gli scontri sociali, come dice la Cancellieri, come dice anche la Camusso, sono sempre più alla portata, più pericolosi e più rischiosi anche per la tenuta proprio sociale del tessuto italiano e questo lo si verifica già nelle grandi città perché chi per esempio vive Milano, che non è la capitale burocratica e dei ministeri lo è sul piano economico, tutti i giorni ci sono delle manifestazioni, degli scontri quasi tutti i giorni di fronte ai palazzi, di fronte al pirellone piuttosto che in centro, piuttosto che in stazione centrale e dunque questo è un segnale che spesso non viene raccontato dalle TV ma viene poi documentato in rete, comunque la recessione non si ferma a meno 1%, passa il rincaro IVA evitabile perché appunto anche l'IVA che è questo imposto sul valore aggiunto di cui si parla, un aumento ulteriore provocherebbe un'ulteriore contrazione dei consumi certamente e a proposito di tensioni sociali la Camusso arriva dicendo senza il reintegro, tensioni sociali fortissime, ossia senza il reintegro del posto di lavoro. Poi io personalmente sono abituato a valutare i provvedimenti sempre dal lato A e dal lato B perché la medaglia ha sempre due facce, certamente non è giusto togliere i diritti ai lavoratori, certamente i lavoratori italiani sono pagati di meno ma prendono il TFR, io dico anche che da una riforma di questo tipo bisogna anche trarre una morale che è quella legata un po' alla meritocrazia, io dico che chi nel settore è anche pubblico o privato, lavora correttamente e onestamente e comunque fa il proprio dovere teoricamente avrebbe molto meno da temere rispetto a chi fa il lavativo perché a un certo punto io ritengo che licenziare i lavativi che ci sono purtroppo nel settore pubblico sia utile, i profittatori, quelli che sono imboscati nel sottobosco delle varie strutture dai ministeri alle caserme piuttosto che negli uffici dove si gestisce tutta la burocrazia, è giusto anche licenziare il lavativo, io lo trovo giusto e quindi io valuterei questa riforma anche sotto questo aspetto, non solo per tutelare i voti e per dire comunque a priori no l'articolo 18 non si tocca perché proprio comporta anche problemi di questo tipo, finora non si è mai licenziato nessuno e il risultato si vede, ci sono i lavoratori meritevoli messi sullo stesso piano di quelli non meritevoli dei lavativi, questi ultimi spesso hanno avuto carriere più brillanti perché le caculi, perché la loro ascesa a livello sociale si è basata non su meriti ma su comportamenti discutibili che vanno al di là di quello che poi serve per poter rendere in una struttura e poter far funzionare la macchina anche statale lavorativa e dunque la camusso, è giusto difendere i diritti dei lavoratori però bisogna anche valutare il momento economico, valutare che comunque alla fine gli imprenditori vogliono essere più liberi di licenziare un po' come purtroppo in Europa e questo va ammesso, non dico che sia giusto o non giusto, è così anche in Europa, ahimè, dove non esiste TFR, cioè il trattamento di fine rapporto. Al pranzo di Cernobbio pausa il sorriso tra due e l'anti, Monti chiede l'armistizio, devo dire che mi fa un po' impressione questa foto dove c'è la camusso che se la ride con Monti, la camusso che dovrebbe rappresentare gli ultimi, i lavoratori, quelli più esposti alle vessazioni e ai cosiddetti imprenditori profittatori, si siede a questo tavolo di Ricchi vicino al lago di Como con Alfano, con Bersani, con lo stesso Monti in questa chiacchierata e con Enrico Letta, nipote dell'amico della P3 Gianni Letta, se questa è l'Italia che ci manda avanti io ho dei seri dubbi ovviamente su questo genere di marketing che non serve a nessuno, al quale non crede nessuno, di questa gente che si vede solo sui giornali, a parte la camusso che ho avuto modo di conoscerla perché venne ospite da me prima che fosse la camusso qualche anno fa quando lavoravo a Studio 1, mi sembrava una persona molto a modo e molto anche motivata nel proprio ruolo, che poi abbia avuto ambizioni personali legittime per carità, che l'hanno condotta anche a diventare segretario nazionale del CGL, quindi sia servito anche a potenziare la sua influenza di sindacalista, va bene, però poi nei fatti stiamo vedendo che anche la camusso e il suo apporto, la sua testimonianza, il suo contributo non porta risultati perché appunto Monti prosegue e Alfano lo avverte, governo indebolito, ovviamente riferimento alla giustizia e alla RAI, chiede un patto sui tempi del DDL, Bersani impegno ad approvarlo prima dell'estate, i partiti devono fare i conti proprio con i loro pacchetti di voti che hanno ottenuto grazie proprio a una massa di dipendenti pubblici magari imboscati nel sottobosco ai quali fa comodo, mi vengono in mente i forestali dalla Calabria per esempio, io dico non prendiamoci per il culo, se dobbiamo dare uno stipendio a chi non ha un lavoro, diamoglielo senza metterlo formalmente sotto la forestale, diciamocelo, non c'è lavoro, dobbiamo aiutare queste famiglie, aiutiamole, però mettere 30 o 40 mila forestali in Calabria e venirci a dire che lavorano, non ci crede nessuno e questi sono bacini di voti che fanno riferimento dei deputati eletti in quei collegi che dunque sono amici anche di Alfano e sono amici dei partiti anche un po' del PD, sono amici di questo equilibrio, equilibrio rappresentato da questi politici che noi incolpiamo come autori dello scempio, responsabili ma in realtà hanno la complicità di chi li ha votati alla fine e anche di chi non li ha votati che hanno rifiutato di andare alle urne. Il premier ha violato la promessa di non toccare i contratti in vigore, questa è ancora un'intervista a Dario Franceschini che commenta a modo suo le promesse non mantenute in tema sempre di lavoro, poi ancora dati sugli atipici e sui precari esclusi dal mondo del lavoro, quindi per loro non cambierà niente, poi Napolitano non mi ricandido, mi auguro una donna al Quirinale e qui ci sarebbe da dibattere molto su questo argomento perché c'è una storia dietro di donne che hanno tentato in passato di diventare Presidenti della Repubblica, da Iotti a Bonino, quelle candidate che osarono sfidare il tabù del colle e si parla anche di Tina Anselmi che ricordiamo ha presieduto la commissione della famosa P2 e che è una donna sicuramente valida perché no, perché non potrebbe diventare Presidente della Repubblica invece di queste facce zozze, io direi parte prodi che francamente non mi dispiace, Casini e Gianni Letta, possibili candidati al Quirinale per l'anno prossimo, si fa il totto Quirinale e poi tra le donne c'è Nilde Iotti che fu la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera, ma non è ovviamente, non si tratta di candidarla, l'Anselmi, eccola qui, che ha la sua età purtroppo 85 anni, è un po' anziana, però avesse avuto qualche anno in meno io francamente ce l'avrei vista bene e poi c'è la Bonino che si concede anche un'intervista al Corriere dove dice bah è compito del Parlamento eleggere il capo dello Stato, ma figuriamoci se una radicale anticlericale va a fare il capo dello Stato, quindi tutte manfriglie, tutte messe in scena, che non serve a niente, per non parlare dei veri candidati che potrebbero essere ancora Berlusconi e magari perché no Casini, essendo stato Presidente della Camera. E poi c'è appunto questo clima da fine epoca, dunque il governo Monti è un governo tecnico che si avvale del contributo dei politici dai quali deve avere il consenso per poter procedere con l'alienazione dei diritti dei lavoratori e con l'augmento dell'IVA e con dunque la precarizzazione del Paese che non crescerà, ha bisogno dei politici, quindi Monti rappresenta la transizione, tra parentesi il nuovo, cioè colui che ci mette la faccia al di là dei partiti, i partiti intanto fanno la conta di quanto sono rimasti, si rendono conto di essere poco popolari anche tra i loro elettori perché molti loro elettori sono stati presi anche per il culo e non hanno avuto di ritorno la crescita che si aspettavano e dunque c'è questa area di fine impero berlusconiano, fine seconda repubblica per quanto concerne il concetto bipolare, il concetto del PD, del PDL, del terzo polo, c'è il timore di Grillo che cresce nei sondaggi del Movimento 5 Stelle, un esito incerto per il taglio dei valori con Di Pietro che continua a godere di buona popolarità tra coloro che alla fine sono stati di Pietristi, però i DV che paga un po' lo scotto nei confronti di Grillo, benché abbia promosso diversi referendum che però si sono rivelati pistole scariche e dunque il fine impero è a questo sistema di partiti che probabilmente potrebbe anche comprendere il taglio dei valori, non a caso Di Pietro a servizio pubblico ha detto non bisogna votare i partiti, anche i DV, votate le persone, ha detto, come a dire sappiamo che anche noi siamo del calderone dei partiti, siamo considerati così, benché abbiamo fatto delle proposte che ci sono sembrate controcorrente, però il fatto che Di Pietro non sia mai presente a questi tavoli con Monti, non sia presente nemmeno considerato, considerano Casini che l'ultima politica ha preso molti meno voti dell'IDV, vi fa capire come il sistema tenga a se stesso, cioè tenga a ingessarsi e quindi anche Di Pietro è visto come Grillo, è classificato nell'antipolitica. Comunque a fine di un'epoca ne parla l'ex governatore della Lombardia, Piero Bassetti, ancora in prima pagina sulla Repubblica Milano, Bassetti è finita l'epoca Formigoni, dunque ok al sit-in di protesta di Civati, il Presidente si faccia da parte, ci vuole un governo della Monti e il nome è Tabacci, dunque un'epoca è finita, dice Bassetti, in Lombardia, cioè l'epoca del formigosinismo e del leghismo che si è impadronito di tutto e adesso è al centro di, anche la Lega, di inchieste di tangenti, quindi di corruzione e poi finisce anche un'epoca non solo a Milano ma anche a Firenze perché il credito di Campi Bisenzio in liquidazione, l'era Verdini finisce qui e quando parliamo di Verdini parliamo comunque di uno dei padrini di Forza Italia in Toscana, quindi Formigoni a Milano, Verdini in Toscana, c'è anche Scaiola che non abbiamo ancora capito quanto potrà reggere l'impatto di questa indagine a suo carico che lo vede inciucciato con Bella Vista a Cartagirone dove si ritrova in galera a Imperia per i costi lievitati a dismisura per il porto della città, quindi Scaiola, altro simbolo di un berlusconismo che dovrebbe essere finito, quanto potrà valere Scaiola in Liguria in termini di voti, ecco che Scaiola era uno di quelli che ha tentato di defilarsi da Berlusconi dicendo ritorno alla democrazia cristiana, al mio vecchio amore per scollarmi e per scrollarmi questa ingombrante figura di uomo di vicino a Berlusconi, perché tutti si sono resi conto che il berlusconismo è finito, però finisce un sistema, anche Scaiola dovrebbe essere trascinato da questo carrozzone corrotto di gente in mala fede, di gente disonesta, perché è uno che si fa pagare una casa e ci prende per il culo dicendo che non lo sa è disonesto, quindi questa classe qui dovrebbe essere trascinata, ma da chi? Da un vento di elettori che devono rendersi conto che dovranno votare la persona, come diceva Di Pietro, e dice anche Grillo, cioè votate le persone, io ci metto la faccia per il movimento, però guardate le persone e ai candidati e ai loro programmi. Quindi fine di un'epoca, dicono tutti adesso, non lo sapevamo già, però insomma bastava attendere il momento giusto, propizio, quindi la crisi economica diventa il motivo che scatena questo ricambio e che dovrebbe portare dunque a un rinnovamento, a una terza repubblica, il punto è che non ci sono riferimenti, molti quindi temono chi è il riferimento, se non c'è un Berlusconi che sorride, che fa il piacione, chi è il riferimento politico? Appunto sono le persone, cioè il candidato del collegio che non deve far capo a un partito. Ecco la fine dei partiti, ecco la fine di queste aziende governate da gruppuscoli, di gente alleata che persegue un obiettivo unico ma che intanto lucra, finanziamenti, rimborsi, queste cose, ecco, è questo che dovrà finire per forza e che cercano di non far finire mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini sempre più poveri e a disagio. Quindi fine di un'epoca, articolo 18, l'argomento della settimana, se ne apre un'altra con lo spettro dei 2 mila miliardi di debito pubblico previsti a fine aprile e dunque si tratta solo di capire quando verrà annunciato ufficialmente il default dell'Italia e le conseguenti poi conseguenze, gioco di parole, sul piano strutturale politico di quello che avverrà. L'indipendenza diceva che ci sono politici del canton Ticino che annetterebbero la Lombardia e la Svizzera assieme alla regione di Stoccarna in Germania. Ipotesi non fattibile, molta gente non immaginava che saremmo falliti o che saremmo arrivati a questo punto, si sono trovati dalla sera alla mattina con Monti, si sono resi conto che la crisi arrivava e che c'era qualcosa che non funzionava. Chi l'ha detto invece che non ci possa essere uno sconvolgimento geopolitico e che questa crisi che ci fa navigare nel buio non possa davvero portare a un cambiamento anche di questo tipo e costringere quelle aree del paese d'Italia che ne hanno approfittato, a cominciare dal sud purtroppo, magari a rimboccarsi le maniche e avere più rispetto delle istituzioni, del lavoro e anche dello stipendio che gli verrà dato.